capodanno 2011 al grande hotel sofia vi aspettiamo nella raffinata sala vantage per il gran galà di capodanno per voi una serata indimenticabile un ricco cenone balli animazioni e gran finale con spettacolari giochi pirotecnici per salutare il nuovo anno tutti insieme prenota subito al 389 18 36 319 o invia un'email gran galà di capodanno una notte da stelle